Eccoci qua a voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. Cari amici, cari amici, avremo ancora tempo tranquillo anche sul nostro territorio, quindi davvero poche novità per la giornata di sabato in questo weekend. Questo weekend che vedrà invece sul finire una irruzione di aria fredda che però scivolerà soprattutto lungo il versante adriatico e al sud. Ma intanto dicevamo una giornata di sabato con pochi cambiamenti, con pochi scossoni, c'è davvero poco da aggiungere in queste giornate, quindi tempo abbastanza tranquillo. Per il momento io vi fermo qui, non ho altro da aggiungere come al solito. Rimanete con noi, vi lascio con i nostri programmi, arrivederci.